È stata varata alla banchina Pinguino del porto di San Benedetto del Tronto, ANSA 303, l'imbarcazione dal design innovativo che la Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto impiegherà per avviare agli sport vilistici i ragazzi e le ragazze diversamente abili. Un momento che rappresenta per l'associazione un primo importante traguardo nel percorso da tempo intrapreso di inclusione e valorizzazione della componente più debole e disagiata delle giovani generazioni. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, Adele Mattiori. Quindi oggi siamo riusciti ad ottenere questa barca dopo notevoli sforzi e soprattutto concedetemi con il contributo di diversi enti, quindi BIM, LION e COP Alleanza. Quindi grazie a loro siamo riusciti a portare a San Benedetto del Tronto questa bellissima imbarcazione che dà la possibilità ai disabili e ai normodotati di andare insieme in acqua. Questo importante progetto è veramente un fiore all'occhiello per noi san benestesi e soprattutto per noi che viviamo il mare. Le peculiarità tecniche di ANSA 303 sono presentate da Daniele Valavolta, presidente dell'associazione Liberi nel Vento di Porto San Giorgio. Questa è una barca molto importante, una barca che sta avendo un grande sviluppo in Italia e qui a San Benedetto sarà la trentesima base nautica in Italia. Di queste barche in Italia ce ne sono un centinaio e quindi noi siamo i primi ad essere contenti come classe italiana ANSA 303 per questa nuova realtà. Questa qui è una barca molto semplice, molto pratica che permette anche a persone con gravi disabilità di poter avvicinarsi e praticare la vela. Presenti al Varo di ANSA 303 anche gli assessori Andrea Sanguigni e Cinzia Campanelli. Lo sport è per tutti, io per esperienza personale che arbitro il locker in carrozzina vedo determinate cose che nella normalità non si potrebbero mai immaginare. Cioè che persone veramente che magari muovono un dito o in questo caso immagino magari persone in carrozzina che non hanno l'uso delle gambe possono fare sport che fanno tutti e quindi non si immagina che questo sport possa essere aperto a tutti. Siamo felici di essere presenti a questo evento proprio nella giornata dei diritti dei bambini perché riteniamo che veramente i diritti valgano per tutti, specialmente per le persone, per i bambini e per i ragazzi più deboli, più fragili e con disabilità. Grazie.